mmm, caffè, snack, cosa c'è di meglio? oh no, il tavolo traballa di nuovo mamma, ciao, ho fatto un disegno guarda, questa sei tu e questa sono io non è fantastico? e le trecce? proprio come le mie oh, la carta è proprio quello che mi serviva oh no, mamma, ho lavorato duramente smettila, almeno il disegno è utile ma non è giusto basta, lasciami in pace dammi un centesimo, aiutami ma ho... oh sì, ecco, ho solo una mela grazie, sei così gentile aspetta, anch'io ho qualcosa per te, è per me grazie sì, aprilo un biglietto della lotteria? sì, spero di essere fortunata sei sicuro di non volerlo tu? no, no, è tuo grazie ok, devo andare buona fortuna e la vincitrice del jackpot è... Giulia! cosa? mia figlia? non ci posso credere siamo ricche, siamo ricche sfondate finalmente è successo ho lavorato duramente per questo aspetta, il disegno di Giulia non è il modo di trattare i capolavori della mia ricca figlia è bellissimo scusa amico, devi spostarti ecco qua adesso va bene che mamma amorevole non capisco, era qui da qualche parte eccolo qua come pensavo oh beh, cosa posso fare? non ne ho idea mamma, c'è qualcosa che non va? c'è un piccolo problema abbiamo finito il tè non è un problema prendi la mia carta gold ok, se insisti potrei passare al negozio a prenderlo sì, sarai bellissimo mamma, vuoi vedere? perché ci sta mettendo così tanto? pronto? mamma, dove sei? il tuo drink? oh, grazie ops, Giulia sì, sì torno subito ecco il tuo tè direttamente dal campo puoi impacchettare tutto eccomi bene, mi sei mancata aspetta un fiore tra i capelli sei sicura di essere andata al negozio? è caduto da un albero la festa della mamma come potrei dimenticarmene? mamma, questo è per te wow un ultimo modello è bellissimo pronto? ciao sono io indovina cosa sta usando per chiamarti? l'iPhone 13 penso di avere un'idea un paio di feste della mamma in più non hanno mai fatto male a nessuno questo è per te, mamma wow ha funzionato devo farlo vedere a tutti sorpresa oh wow cos'è? oh wow stupendi auguri mamma sei piena di sorprese e un'altra festa non se ne accorgerà è di questo che sto parlando non puoi ricevere troppi regali cosa? tante volte mamma non stai dimenticando qualcosa? oh è il tuo compleanno io ho una sorpresa per te chiudi gli occhi mi inventerò qualcosa posso guardare? dov'è la sorpresa? prendi Giulia un bacio è il miglior regalo del mondo è uno scherzo non c'è niente eccolo non ringraziarmi sì che regalo che noia ci sono sempre le stesse cose in tv wow guarda quel film è al cinema wow devo vederlo ciao mamma possiamo andare al cinema a vedere questo? ma certo è il mio sogno ok cosa? hai una nuova manicure? è fantastica i soldi Giulia oh sì ecco guarda sta iniziando meno male che ho fittato l'intera sala mamma mamma non è il mio cartone animato è un altro film no bambina ho paura smettila è molto interessante un film dell'orrore ma mamma non è giusto volevo il cartone animato vabbè giocherò con il telefono Giulia silenzio non sei l'unica in sala per fortuna ho le cuffie bene Giulia vieni dobbiamo andare sì che ridere ops mamma dove sei? wow guarda quelle scarpe perché non sono ancora mie? incredibili mamma ho trovato un libro interessante possiamo leggerlo insieme? magari un'altra volta? e se aggiornassimo il tuo armadio? sei seria? sono seria a tutte le ragazze piacciono i vestiti nuovi giusto? beh perché no? questo è il mio sogno che si avvera guarda questo negozio quanta roba che c'è mei cosa fate? attente perché non andate al mercatino dell'usato dietro l'angolo cosa pensi di fare? cosa ne dici? sono abbastanza per le scarpe? oh errore mio ecco guardate la nuova collezione wow un vestito da principessa è bellissimo posso comprare le scarpe? ok certo beh le scarpe non bastano mai ecco questo per favore aspetta un attimo sì ce l'ho fatta a malapena fantastico ottima scelta oh dove le indosserai? la mia gola ha bisogno di quella sciarpa è magnifico ok fermati compriamo tutto ma certo ecco i vostri acquisti mamma ho tanta fame quando si cena? cena? non abbiamo cibo come mai? sono affamata chiamiamola consegna grande idea pronto? vogliamo ordinare degli involtini di sushi due tre no dieci oh wow è tutto delizioso wow non esiste prima devi lavarti le mani oh no non voglio perdere tempo pronti? mmm buonissimo buono sono senza parole eccomi cosa? non ci credo dov'è il cibo? op penso di essermi lasciata trasportare stai calma rimedio subito ecco questa è la parte migliore tutta per te serviti oh sì quasi dimenticavo la tua carta bye bye grazie delizioso perché non sono sorpresa? Giulia si sta facendo le unghie e Candace sa esattamente cosa vuole tre stetiste in una volta e decine di trattamenti costosi le unghie sono quasi pronte eccezionale le adoro ecco lo scontrino veramente? ma perché così tanto? mamma ci deve essere qualche errore dici? certo che sì quanto sono costati i tuoi trattamenti? oh una chiamata importante beh immagino che dovrò pagare non bastano meno male che ho la carta gold potresti comprare anche una casa con questa ciao Giulia vuoi una mela? oh grazie mi è mancata tanto la mia bambina sono serio? mamma vuoi qualcosa? hmm un'idea e se comprassimo una macchina? una macchina? ma perché? shh immagina io e te che guidiamo questa splendida macchina divertendoci wow mi piace e questo è solo l'inizio che ne pensi di questa? wow è bellissima paggala io? ok ecco qua wow fantastico avremo la nostra macchina non ci posso credere eccola è anche meglio di quanto pensassi l'auto è stupenda devo fare un selfie pronto? ciao indovina cosa sta guidando questa è la mia macchina non è fantastica date un'occhiata questa è la vista dal retro ehi cosa succede? mamma e io? ma perché? oh no sono in ritardo wow ci sono tanti snack qui da dove cominciamo? perché scegliere? prendiamoli tutti è bello non dover risparmiare voglio assaggiare tutto wow sta arrivando l'apocalisse andiamo a pagare incredibile costano una fortuna e ce l'abbiamo wow penso che siano abbastanza tornate presto queste borse sono pesanti tesoro posso aiutarti sarebbe carino dammi la valigia il mio tesoro aspetta e se? oh cielo è ora di realizzare il mio sogno tutto ok penso che bastino non mi servono molti soldi uno due tre chissà cosa sta combinando sedici oh cielo ho perso il conto devo ricominciare centoventiquattro e ciù no ancora duecentoventicinque duecentoventisei potrei usare questo no quella ragazza mi spaventa mille basteranno di sicuro basta aspettare piccolo sei bellissimo non posso credere che il mio sogno si sia avverato vi presento hai mamma ciao cosa? dove sei stata? un cane? cosa è questa storia? allontanalo da me ops penso che mi piaci perché voi due non andate a fare una passeggiata insieme? per favore beh perché no andiamo starei qui per un po' vediamo quanto Giulia ci tiene a te tesoro è terribile hanno rapito il cane no non esiste chiedono un riscatto il mio cagnolino farei di tutto per te ecco qui eccoci qui evviva sei tornato mi sei mancato tanto aspetta mamma hai una giacca nuova? io penso di averla presa ai saldi ciao ti ricordi di me? certo che sì ho una cosa per te tieni wow per me penso che tu abbia bisogno di questi soldi più di me sei così gentile Giulia cosa? oh no quella ragazza è fuori di testa rivolgo i miei soldi subito bene bene tipico della mamma non ti do niente questi sono i miei soldi ferma ti è piaciuta la storia della mamma cattiva? cosa compreresti con un milione di dollari? diccelo nei commenti metti like iscriviti al nostro canale e clicca sulla campanella non perderti nuovi sketch sulle famiglie su Troom Troom Select e clicca su Troom Select attività è piaciuta